Gabriele Di Bucchianico, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, oggi qui conferenza stampa per annunciare l'ingresso di tre nuovi consiglieri. Il gruppo consigliare cresce, aumenta anche la responsabilità per l'amministrazione di questa città. Ci assumiamo onori ed oneri. È una giornata importante, è una giornata storica, abbiamo lavorato molto per ottenere questi risultati. Sono stati dei mesi senza tre. Abbiamo fatto degli incontri continui, devo dire che con gli amici consiglieri, Dalila, Giuseppe e Michele, abbiamo fatto un bellissimo percorso. Abbiamo dato il nostro contributo, il nostro sostegno anche su azioni amministrative importanti all'interno del Consiglio Comunale, quindi non ci poteva stare una conclusione che unire questi due gruppi e lavorare insieme. Chiaramente con l'aumento dei consiglieri aumenta anche la responsabilità di fare bene, di portare nuove idee e progetti in sostegno dell'amministrazione Poli. Aumenta ovviamente la responsabilità nei confronti di questa amministrazione, noi vogliamo fare di più e meglio. Non abbiamo timore di mettere in campo le nostre risorse, siamo tutti e sono, soprattutto i tre consiglieri che aderiscono a Fratelli d'Italia, sono tre persone squisite che daranno certamente il loro contributo. A questo ci aiuterà sicuramente il coordinamento provinciale, il regionale e il consigliere regionale Nico Campitelli. Siamo una grande squadra, possiamo solo fare bene, siamo solo orgogliosi di quello che stiamo facendo, di quello che abbiamo realizzato oggi. Grazie.